Rossini TV accende le telecamere sulle segnalazioni dei cittadini e le riaccende per trovare risposte alle problematiche. Nel mese di novembre chi transita in centro storico a Pesaro ci ha segnalato il perdurante stato di degrado della piazzetta di transito alle spalle di Piazza del Popolo nonché allo sbocco di via Amnesio Nobili prima parallela della centralissima via San Francesco. Buche enormi in una pavimentazione abbandonata a se stessa ma buche collocate in un suolo di proprietà privata. Enzo Belloni, assessore all'operatività, spiega ai nostri microfoni come il comune non possa intervenire nella riparazione di una zona di transito privato ad uso pubblico. Quella è un'area privata ad uso pubblico quindi la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del privato come succede anche in altre situazioni era consuetudine una volta quando si avviavano le procedure urbanistiche lasciare delle aree private ad uso pubblico. Succede per strade, succede per parcheggi e succede anche per alcuni porticati quindi è una situazione diffusa in città e quello che ci preme sottolineare è che le aree private ad uso pubblico sono di competenza dei proprietari quindi dei privati. Il malaugurato caso di infortunio di un passante è allora il privato stesso a rispondere di possibili denunce. Ovviamente il privato che ne risponde la prima comunicazione di solito arriva agli uffici comunali e poi dopo gli uffici comunali rispondono e girano la pratica a chi di competenza.